che lo schema di decreto in questione, anche in ottemperanza alle richieste formulate dalle Regioni, attualmente oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, secondo la disciplina di cui è l'articolo 12 del testo unico ambientale. Tale procedura prevede la conclusione del relativo procedimento entro 90 giorni dall'acquisizione dell'istanza di assoggettabilità da parte dell'autorità competente avvenuta il 17 marzo scorso. Ad ogni modo, fermo restando l'attuazione dell'articolo 35 nei termini sopracitati, tenendo conto delle competenze aspettanti agli enti territoriali compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, il Ministero dell'Ambiente valuterà anche il potenziamento di tutti gli strumenti necessari finalizzati a rafforzare in termini di efficacia, efficienza ed economicità il sistema di gestione dei rifiuti nell'ambito, appunto, dell'istituendo Comitato. Grazie. L'Onorevole Zeratti ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Grazie, Presidente. No, mi piacerebbe poter essere soddisfatto su questo tema, perché ritengo che il problema della gestione dei rifiuti sia uno dei principali problemi del nostro Paese e di ogni Paese civile. E quindi la gestione dei rifiuti attraverso un ciclo virtuoso sarebbe un obiettivo da condividere, a prescindere dalle posizioni politiche di maggioranza e di opposizione. Ma in me non è così, perché poi, al di là, diciamo, delle tante chiacchiere, degli orpelli e dei comitati che si dovranno costituire, la realtà rimane soltanto una, che in Italia si vogliono costruire altri otto inceneritori. E io penso che questo Paese non ne abbia bisogno. Penso anzi che gli investimenti significativi e notevoli che dovrebbero essere realizzati per realizzare otto nuovi inceneritori, ecco, questi finanziamenti, se fossero, come dire, orientati a rafforzare la raccolta differenziata, le politiche virtuose in tema di rifiuti, darebbero risultati assolutamente migliori e straordinari. Tra le altre cose io voglio ricordare, visto che è stato citato, diciamo, le eventuali emergenze e difficoltà che possono insorgere nel Paese, che realizzare impianti di incenerimento, oltre a notevolissimi investimenti, significa anche un notevolissimo tempo, perché non è che si può pensare che un impianto di incenerimento si possa costruire in due giorni. Invece, per ridurre l'emergenza dei rifiuti, basta un'efficace politica di raccolta differenziata che si può mettere in campo in sei o otto mesi ed avere immediatamente dei risultati positivi. Quindi non sono soddisfatto, non posso essere soddisfatto di quanto detto, perché io ritengo che ci sia proprio, come dire, una cultura sbagliata, una mentalità sbagliata del Governo e dei suoi tecnici che vuole continuare a insistere su una politica che è stata, si è dimostrato in tutti gli altri Paesi d'Europa una politica fallimentare, e cioè quella di bruciare rifiuti, quello di bruciare risorse. L'obiettivo nostro è oggi quello del recupero. E visto che si fa cenno alla normativa europea, vorrei ricordare che la normativa europea, diciamo, prevede l'incenerimento dei rifiuti come ultima, il recupero energetico, come ultima razio nella gestione del ciclo dei rifiuti. Dopo, cioè, che si sono messe in campo tutte le politiche per la riduzione, il riutilizzo, il riciclo e il recupero delle materie. Cosa che qui non avviene. E oltretutto i dati che sono contenuti nel DPCM sono contraddetti costantemente dalle stesse regioni. Dalle stesse regioni. Dicevo, la regione nazionale in questi giorni ha detto, non è vero, a me non serve un altro impianto di incenerimento. Lo dice l'assessore ai rifiuti. Così come tante altre ragioni dicono che il loro obiettivo, il lavoro che stanno facendo, è in un'altra direzione rispetto a quella che il governo continua a indicare nello sblocco Italia. Io temo che si voglia continuare a incentivare la distruzione dei rifiuti tramite l'incenimento, perché questo fa comodo ad alcuni imprenditori. Fa comodo ad alcuni imprenditori. E si vuole continuare a sostenere queste lobby così come si è continuato per tanti anni. Vorrei ricordare appunto che bruciare i rifiuti è incentivata dallo Stato e sostenuto dallo Stato, perché altrimenti questa impresa non andrebbe avanti. Senza l'aiuto dei vostri finanziamenti a chi brucia rifiuti, non si brucierebbero i rifiuti nel nostro Paese, perché non è conveniente bruciare i rifiuti e recuperare energia dai rifiuti. È invece conveniente riciclare, è invece conveniente recuperare. Questo sì che è conveniente. Io penso che sarebbe opportuno che il governo facesse un salto culturale e ci avvicinasse, diciamo così, non a un'ipotetica, un'utopia di Stato che garantisce sempre la salute e l'ambiente, ma che si avvicinasse almeno a quei Paesi d'Europa con i quali ogni tanto si dialoga per condividere politiche di austerità in economia e per condividere politiche di difesa e lo spesso di aggressione, diciamo così, in giro per il mondo. Ecco, con questi Paesi, visto che avete tanta occasione di chiacchierare e di parlare, fatevi spiegare come gestiscono i rifiuti, fatevi spiegare perché vogliono chiudere gli impianti di incenimento, fatevi spiegare perché Danimarca, Norvegia e tanti altri che hanno fatto impianti di incenimento prima di voi adesso sono costretti e importare i rifiuti da altri Paesi. Fatevelo spiegare, non è che ci vuole tanto, ci vuole semplicemente un po' di umiltà e andare, diciamo, ad ascoltare quello che gli altri hanno fatto prima di noi. E visto che noi siamo arrivati tardi, ancora una volta, forse questa volta arrivare tardi potrebbe essere un aiuto perché ci permette di evitare gli errori che gli altri hanno fatti. Io veramente credo che sarebbe opportuno un ripensamento importante del Governo su questa materia. Grazie. Grazie. L'onorevole Carriscia ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Grazie, Presidente. Signor Sottosegretario, mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta. L'interrogazione, ricordo che risale al settembre del 2015 ed era finalizzata ad acquisire la conoscenza dell'iter dello schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che doveva individuare a livello nazionale la capacità complessiva del fabbisogno per lo smaltimento dei rifiuti urbani e gli impianti di incenerimento con recupero energetico da realizzare per coprirlo. L'interrogazione è nata quando l'iter era già stato avviato perché la Presidenza del Consiglio già a luglio aveva trasmesso l'atto alla conferenza permanente e nell'interrogazione si evidenziavano alcune criticità relative alle informazioni acquisite dal Ministero che risalivano.